papam con la mia squadretta allora guardate questa roba qua questo questo schifo dovete guardare più che altro questi giovedori che andranno in serie dopo che ok allora allora cerchiamo questa partita e poi giochiamo depai alla belli ragazzi è bello bello forte e sandemi altrettanto altrettanto allora 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 vediamo che ci abbiamo contro una squadra onesta cioè non è neanche né troppo forte né troppo scarso c'è voglio dire normal screener il punto debole penso penso di spesso so non faricando sciagli aspettiamo un attimo e poi dopo avete molti cambi che vogliamo depai no questi belli mannaggia alex sandro voglio farci i cambi di spaventi allora luisa alberto buttala fuori subito 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 ok facciamo sti cambi e poi possiamo cominciare allora adesso andargli bene qui in gaia e qua ok gaia dei pane ok perfetto possiamo iniziare questa partita spettacolare questo qua mi sembra normale non è troppo forte ma anche un livello però ci sta questa atmosfera del campo mi piace un sacco che sta succedendo che sta succedendo mamma che luisa alberto ha fatto uno scatto aspetta mamma che manco politano con cacciatore belli tre belli belli no se gli piaceva il passaggio alto era meglio però vabbè aspetta spettacolare luigi alberto l'azzari e l'azzari ragazzi no 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 goal l'azzari è forte peccato penso per i 3 3 perché se fossero sei tipo un 4 4 sarebbe stato già meglio l'azzari potenza uno di quelli che mi piacciono anche bello forte diciamo attiviamo sto pressing che questo qua mi sembrava abbastanza uno di quelli che gioca nello stretto diciamo ci credo ragazzi l'azzari l'azzari guarda 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 ma che fasi sto gol sepposso allora sisogo depai per gaga gaga fa lo scattino palitano no mamma ci è morto spostati spostati mamma che sto state per paleggiare vai tutto in profondità Ho sbagliato io qua ragazzi Senza ombra di dubbi Vai vai di qua Penso che Ma il portier è bravissimo Uscito bene Uscito bene qua ragazzi Quadrato stai fermo Stai fermo No se passava sto passaggio Spettacolare No Guarda la mente Guarda guarda Un po' godo Un po' godo Allora Avanti avanti ancora Che è successo Ha buttato fuori E poi Pensavo l'avessi toccata Perché non è napolitano Fare robe del genere Non lo so Stavo sbagliando tutto qua Fermo Bravo Pressa No Ti prego russi Io nel tuo momento Ma guardalo Mertens C'è Un boom Mertens Ciao 86 velocità Ma Sembra che ne ha il doppio Forse sì perché C'è più velocità scatto Ecco perché Non ho dimenticato Di questa cosa Però tipo Rallenta Tipo dopo Vai Girati Avanti E poi E poi Non vedete Mannaggia Oskrini Troppo forte Ragazzi Vai Guarda 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 Sissoko Mi combina Guarda Ma che cosa Dietro Avanti Di nuovo Guarda Skriniar Non è possibile Una roba del genere Assolutamente No Dai Giocalala Bayley Recupera Allora Secondo me Dobbiamo fare Un 1-2 Con Bayley Perché Bayley C'è la velocità La velocità Che non tutti Hanno In questa squadra Bello Ragazzi Spettacolare Stiamo Bello 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 Mi piaciuto Bello Bellissimo 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 Le ombri Fermo Dove vai Pem Ma è fallo Mi sa che No Non ne ho fallo Il gioco Forse Pem Bravo Spazza Spazza Ti fai Salta Bu Strano Gaia Bello Gaia Bello 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 E avanti Pem Fai lo scattino Saltalo Saltalo Alessandro Con 80 di velocità Tiene Alessandrina Non ci posso credere Che fa E' impazzito Signore Bravo Pop Gaia Ma La gira bene Politano Aspetta Aspetta Politano Che cade Guarda Bravo Guarda che ha lasciato La diretta scoperta Io ovviamente Che sbaglio Certe cose Mamma mia Guarda Scriniano E' impazzito Quanto è di velocità Scriniano Mamma mia E' un mostro Vabbè dai 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Si può recuperare Si può recuperare Non è detto Non è detta L'ultima parola Allora Magari avvia Anfield Bello Ma Ok Vai vai Avanti Bravissimo Ma Bello Peccato che non c'è il fisico Perché Guarda 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 Manolas E' The best Difensore Niente da dire Su questo Ci credo Quadrato Fallo 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 Al limite Proprio Questa Vai Vai Dall'altra parte Ma Peccato Si scendeva bene Forse Voleva pure Entrare Vai Morgan Tutto in avanti Come sai fare Solo te Spesso 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 Sì Sono bravissimo Adesso Cosa sono Manolas E screen Cioè Roba assurde Voglio dire Quadrato C'è la velocità Voglio dire Quadrato Veloce Però Non Velocissimo Ecco Veloce Ma non Velocissimo Fai di qua Sì So Che mi Compini Con L'oggette Tutto Stai fermato Vabbè Prendilo Brava Morgan Bravissimo Gaia Spostatela L'hai visto L'hai visto Scattare No Non ci Credo L'ha scattato Pure E' bene La verità Purtroppo No Qua doveva prenderla Però Policamera Per Ok No Ok niente Guardateli Insegni Insegni Di testa Io non ci credo Io non ci credo Io non ci credo Io non ci credo Letteralmente Non ci credo Corri Ti prego Politano Dai Prestalo Non ci credo Non ci credo Sto Sto Il cavolo Di Joystick Un Secondo Sto Sto Insegni Un Christi Sto Po Sto Sent Bi Insegni Mai Di C Insegni ci credo sto joystick ogni occasione di vincere è andato dai però con tre belli in teoria ok dai ma che è successo vabbè non c'è sta guarda però c'è vai vai gira 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 mannaggia al gioco che non è allora godo non sono affatto sbagliare ma godo vai tutte le avanti bello 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 mu che gol ha l'incrocio a giro bellissimo bellissimo spettacolare che mi viene in mente che mi viene in mente vai 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 no prendilo prendilo fuori gioco del chilometro vai giochiamo tutto da dietro ci credo bene attaccalo la tocca da lui non me ne frega niente devo recuperarla sta partita per forza non voglio perdere per colpa di uno stupido joystick per colpa di uno stupido joystick guarda guarda c'è timo fuori ma no non dai 1200 berlotta storico vai 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 dai rifacciamo rifacciamo dai tanto prima o poi ne vinceremo dai dai tavernier ma questo qua ha uno squadrone cioè non so quanto costa però un bello forte no di un giorno a me non piacevole giocare mamma mia che brutto di giorno mamma mia gaia beili ok beisi 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 come è per voi erano attività parte riducioni ma che gol golletto politano ergol bello bello vai in mezzo politano di testa politano di testa signori ma che scherziamo ragazzi f acquittato per quanto era assurdo sta cosa non mi fa vedere il gol di testa è il marcio per uno scuola alfucce xd alfucce xd niente e si ritorna a vincere subito quando è troppo forte ragazzi oh easy ok se ritorna alle origins poi vabbè entriamo qua poi andiamo di qua contrattino easy e andiamo procediamo però ho pensato no in realtà no ho pensato malissimo ho pensato malissimo ho pensato malissimo ho pensato malissimo specchio ne stanno uscendo proprio comunque se bc intendo allora allora una squadetta con rushford e sony in attacco dovrei temerla perchè è una bella squadra si dai dai fammi mettere pausa sbrigati allora depai gaia bailey e sto spaccola spaccola che bella pausa ha fede che bc che bc così penso di poterla vincere sta partita non credo sia difficile fatti infatti infatti meglio che sto zitto qualche volta ah ma è ucciso ucciso gaia l'uomo dei rigori ma no ci credo davvero ragazzi bravo Semedo bravissimo bravissimo leggendario Semedo mamma mia che tirazzo all'incrocio all'incrocio proprio aspetta qua non ci credo non ci credo che sta roba proprio prima l'intervento di Morgan a caso così pure fuori ci mancherebbe guarda l'ossidione un passaggio dritto non lo sa fare proprio ma certe cose non le capisco manco io vabbè non sono manco chissà chi però guarda cosa non ho schiacciato niente dai ciò che è dai ciavola di qui spregati 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 cento anni guarda va di qua no guarda di niente guarda se sei niente di niente guarda punto dico io certa gente la minson ha fatto un gol spettacolare pensare che costa quasi niente cioè voglio dire meno di 100k al secondo palo ma non lo so io devo dire io dire al secondo palo no guarda che gol guarda no no non si sta proprio mamma mia mamma mia quanto rosico quando vedo certa gente mi dico guarda mamma ma vai a ricoverati 86 non ho fatto niente l'anno scorso 86 va bene va bene va bene guarda a me li saltano tutti tutti li saltano tutti gira di qua veloce hai visto l'hai visto l'hai visto l'hai visto finalmente uno almeno un gol di nidoso all'incrocio bello bello di memphis no se lo fa vedere magari quello da notare una cosa che c'ha tutti tutti quasi cinque skill nella squadra tutti quasi vai son ragazzi ma che fa questo ok perfetto perfetto niente godo e spero che si infortuna sto giocando così poi la caccia vai vai varan 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 no che difensore ragazzi la difesa va a sto punto vale che la giochiamo me ne frego ma guarda un po le pop pure non lo so esplode il campo interesse vai gioca tutto in fondo veia tutto profondità gil passa segna mamma mia mamma colpo al cuore ragazzi che mi fa tutti 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 mannaggia lui lui il portiere ripara tutto a me non para niente fuori gioco vai vai godo cosa si sta scaricando filo fischia fischia qua varan varan sempre varan sempre mamma mia se ti giri se ti giri magari non lo so almeno due gol volevo fran mamma mia dai svegliamo io farò almeno due gol perchè sennò Se sta cosa si sta scaricando dimmi tu Guarda il suo quartiere com'è bravo Ma mamma mia che Forza ma alla prima parata ragazzi Non ci credo dovremmo fare una festa solo per questo Vai E' morto E' un funerario non glielo facciamo Prendilo Si sto qua ti faccio vedere io ma dove finisci Ci credo non ci credo Ma vai 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 a comprarti dei piedi Vai Passala Bene Bene Varan Varan ma lo potete levare Vai Di nuovo 1 2 Dai Giocala di qui Quella come si gira nei suoi guarda Ti prego vai Ti prego vai Ha toccata Era ora Penso che può entrare così Infatti non entra perché perché c'è una spurchia mamma mia Compà Stai 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 Fermo E mo ti stai pure Stai pure zitto Ci credo però Ci credo Ci credo Ci credo Ci credo Ma io Guardalo che si fa saltare sto deficiente Guarda son Mamma Mamma sto giocatore Vabbè ma Politano qua è bullizzato Viene bullizzato Guarda 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 Viene lanciato Viene lanciarlo dalla finestra sto gioco Mamma mia Questo giocatore Infermabile Oh Oh Bra Politano vai vai ti prego Tanta pazienza ragazzi E' una cosa almeno Ci mancherebbe Pam Vai di qui Mamma il suo portiere Il suo portiere Il suo portiere Bravo son Pure il difensore Fa lui No Ci mancherebbe A me i difensori Mi dormono Guarda Ma cos'è sta roba Guarda Cos'è Cos'è Questo non è fallo No No Guardalo Quei fortuna Mamma mia Perché non si rompe il joystick adesso Mamma mia Perché non ti rompi Mannaggia Di sinistro Rashford No io non ci posso credere Ma vai Ma spezzati 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 5 piedi debole Ma guarda Rashford pure col sinistro Ma c'ha 10 piedi debole Quello Mannaggia Lui Dai Dai Su Dai 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 Si può giocare Si può giocare Buongiorno Allora Allora Questa squadra Vedo male Ci sta Penso che E' vero Allora Subito Con i cambi Qua Allora Depay Caya di qua Belli di qua Va bene Va bene O li metto E spacco Basta Basta che esce sto pallone Almeno Allora Sono sti campi Oh Basta No guarda Guarda Di bar Di bar Di bar E' qualcosa di Indescrivibile ragazzi Gaia Mera Mera Che cioca rotto Mamma mia Cosa sta facendo Boh Bho 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 Non mi sta piacendo Mora Devo mettere ombria Così ribusta Anche la difesa Perché non Non mi sta piacendo Bho Sbaglio Molti interventi Un po' di possesso Palla Si può fare Ma si può fare Prendilo Annaggiat Prendilo E li spezzo Stai in super Fuorigioco Questo Annaggiat Si so Oh Ma possesso Palla Svegliatevi Dai 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 Puoi muoverti Ogni tanto Ci credo Non ci credo God Vai in mezzo No Pallonezza Sarebbe stato Bellissimo Qua Bravissimo Vai Vai Tutti in avanti Mamma mia Ma un giocatore Che passa La palla Bene Ma non c'è Bravo Come daia Vai Vai Dai Scatta Gaia Scatta Bravo Beli Bello bello E' grande parato direi perché Ha un bel tiro a me piace Bravo Morgan Unica cosa che ha fatto praticamente Buttare i palloni fuori Sbagliare e basta Quanto è questo o niente Vai No Fischio Allora Ammazza Ammazza Bello Peccato per poco non è entrato Tentato Magari usciva tipo Spettacolare Dai portiere Si sbrighi signor portiere Mamma mia Gli invocate pazzeschi E basta Levati Dai Se si sbriga Dai O dormiamo Vai 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 Vedi Vai Vedi Vedi Mamma Che Mia Sai che ho sbagliato Però Va Vabbè Se vuoi che sarà un po' più lento Forse No Uno di rovesciata qua Sarebbe stato perfetto Vai Guarda Quell'altra parte L'altra parte Vai 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 Alessandrini Vai Mannaggia Guarda Mai una me ne riesce Dei a fare skill Grande Sissoko Troppo forte Dai Ma mori No Se la basta Sono finito Però C'ho la copertura Sul Sul primo palo Ah Mi sembrava dentro Un altro po' Ve li vai Mamma Nangolano Cos'è Nangolano Immagina il rule breaker Fallo 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 Super Fallo Godo Proviamo da qui Allora Pio con uno che sa Tirà Alessandrini 98 Sotto Non era proprio così Però Vabbè No Ci credo Cosa ho sbagliato No Ci credo Allora Bramma mia Tirata Anna mia Ha tirato Bene 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 Quanto stiamo Forse non me ne sono accorto Quanto stiamo Forse una 0 per lui No mi sono 0 a 0 Più che altro Ok Perfetto Dai dai Mena Seng labori Carri Vole La partita Boh Vole Vole No 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 Bravo Sto passaggio non me l'aspettavo Sinceramente però va bene Vai Ti prego Non ha già scritta Fa sto rumore fastidioso Santo Dio Vai Mamma mia Mi verrebbe da buttare il controller Per terra qualche volta Magari eh Boh se volete voi Ma ciacchellini mannaggia Al chello Bello Ti non mi è piaciuto Ehm No Quanto par Che è questo Ti par Basta Io non ci credo Io non ci credo Io non ci credo A certe cose A certe cose non ci posso credere Questo è un cross Adesso Vai 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 Pam Preso Vai Tutto è in profondo Tutto è in profondo E' bravissimo No Mena Se segnava così Mena andava La deviazione è pericolosa Ragazzi Tipo la pressione Non so Può darsi che funziona Ehm Sto a pressa Ma vediamo Fuori 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 la cesta Allora Vai di qui Non di là Vabbè Bello Bello Vai vai Sisto Una cosa buona hai fatta E infatti ha sbagliato subito Mannaggia Sisto Mannaggia Russi Lyon Vai Pam Vai Alessandrini sulla fascia Così Sul secondo palo Fai Niente Sisto Niente male Ragazzi Niente male Niente male Niente niente male polilano tira para e poi devrai ovviamente metti il tap in vincente questo qua starà massacrando il controller come minimo come minimo vabbè se proprio non vuoi si è affranto questo tizio ormai dai è scesa la depressione evo facciamo un bu mi sa che è meglio tornare in difesa vai 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 rossiglione rossiglione in profondità no incidere mettiamo equilibrato non offensivo se no bello organ bello forte bello forte si si bello bello pam angolato al millimetro sta da lì mamma è questo qua è tutto affranto dove lì vai vai vabbè tutto a posto mamma è come si è allungato è spezzato un braccio vai vai va è morto aiutatelo fate voi mamma è spettacolare manco inca manco manco la linea di fondo ha preso bello bello sono tipo aspetta un secondo allora questo è quello che devo farvi vedere questo qua sta penso stava lanciato più o meno tutta casa mamma è mi sarei indignato pure io pure questo guarda che golletto bello bello poi poi vabbè questo abbiamo l'avete visto penso tu stavate fk questo bello bello se mi volete dire anche qualche sbc che volete che faccio voi faccio vedere scrivete non lo so voi volete voi ditemelo voi scrivete fate quello che volete allora easy vittoria easy win qua in questo caso easy easy win 8000 punti bello bello ci sono degli obiettivi che ecco appunto che vorrei fare tipo questo aspetta questo perché mi da il pacchetto ultimate mancano precisamente 67 in teoria 60 no forse si 67 ne manca punti in modo che poi ho questo e il pacchetto ultimate lo apro poi per le squad battles credo sia la stessa cosa però si appunto poi fu champions penso di sicuro pacchetto goto bello poi vediamo un po' l'SBC è uscito il difensore però c'è no è uscito Alland qua cosa è successo al frattempo ma questo giocatore ragazzi è fortissimo quanto costa l'SBC cara cioè non è che non è un giocatore fortissimo lui voglio dire non ci spendere così tanti soldi questa qua intanto questo SBC di queste piccole tanto per fare qualcosa per farlo spacchettare un pochetto vai vai è proprio il giocatore di quelli che non usiamo mai allora lui lo usa lui lo usa più che altro per l'intesa poi voglio di qua uno di questi qua così per liberarcene e poi no lui no spesso che lui mi serve lui no lui non mi serve ancora e meccani da mettere lui da mettere meccani da mettere lui da mettere questo 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 da mettere se magari basta roba ok allora lui lui possiamo metterlo tranquillamente più lui poi vediamo dopo allora penso lasagna attt ci sta poi meccani cc ovviamente lui ts lo vado a mettere qua edi di qua difensore centrale di qua ma penso che dobbiamo cambiare un po' di cose allora ah si gervinio ce l'abbiamo per fare la s ok la posso fare sempre serie alla fine poi quali devo ibridare tutti e niente allora serie a serie a serie a serie a serie a allora vesino anzi non si vede che facciamo metto vesino e questo tizio sono tutti e due uruguayani quindi ci sta worka bene sta cosa pure uno scarso qua non lo so il più scarso che si può prendere ok perfetto puoi pure qua qualsiasi cosa penso vada bene qualsiasi cosa oppure possiamo mettere qualcuno che linka non lo so allora allora lui lui va bene lui va bene per linka allora pure di qua e penso che va bene poi vediamo lui si lui va bene lui va benissimo va benissimo ah non bene benissimo di più di più però ne voglio uno che fa quell'intesa in più insomma avete capito e cioè penso si 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 lui è lui è ciò che ci serve campionale di max 3 si quanti sono beh poi sistemo poi sistemo poi sistemo allora compri a compri a non lo so io dico qualsiasi tanto non è che mi cambia la vita quindi mettiamo es serie 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 a ok più o meno 1000 oppure un po' di meno 50 700 750 va bene ma io non dico va bene ed serie a dai metti qualcuno tanto così per mettere qualcuno allora qua 800 900 950 1000 oltre ma perchè costano così tanto così per curiosità ma che sta roba che sta truffa vabbè qua possiamo in spagna 2 e a sto punto dici che fai non te lo metti su come serve un portiere uno così casual vabbè dell'espania 2 espania 2 qualsiasi portiere dell'espania 2 smart cosa leva sta roba vai qui quando i tanti portiere a voi modestamente allora abbiamo di questa squadra qui questa forse l'ho trovato questo sempre spagnolo aspetta questa squadra tipo con con uno stemma strano come si è come è sto stemma così così tipo che no ha una corona questo ne sono sicuro ecco forse è questo ok 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 effettivo perfetto poi per risparmiare qualcosina possiamo pure togliere che ne so politano togliamo no aspetta no aspetta però no aspetta però no aspetta però no no qualsiasi non so uno uno a caso che è spagna 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 vediamo un attimo beccialla che fa vabbè vabbè un po' di credito magari chi lo sa troveremo il grande campione ah beh ehm grande giocatore ragazzi signor Pagliere pure scambiabile pure scambiabile lo dero quanto costa lo dero meglio li metti tutti così poi chi se li vuole prende se li prende no me ne frega niente in realtà però vai 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 tutti tutti questo lo conosco questo altrettanto non so chi sia ok non so questi qua penso che uh 3.000 crediti che frante che prendi i soldi che ho speso praticamente bello ci ho guadagnato cioè ci ho guadagnato non ci ho rifatti i soldi forse ci ho guadagnato vendendo quelli vabbè ragazzi io vi saluto ci vediamo nella prossima live e io ora vado e ci vediamo nella prossima live ciao ragazzi ciao 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 ciao